A tutti voi buon giovedì, oggi è il 31 di marzo, l'informazione di Senigallia Web TV, subito con la cronaca. È di un cellulare e 6 euro il bottino del furto avvenuto all'interno della scuola materna del centro per l'infanzia di Ponterio di Monterado nel comune di Trecastelli. Solo nel corso della mattinata di martedì si è accorta un'educatrice che qualcuno era entrato nel plesso di via Primo Maggio e ha quindi chiamato i carabinieri, intervenuti poi per un sopralluogo. Delle opportunità di accedere alle provvidenze comunitarie usufruendo di fondi europei per i settori del tessile, dell'avegnamento e del turismo si parlerà in un incontro pubblico programmato a Sera dei Conti il 6 di aprile prossimo. L'incontro si terrà in Sala Italia con l'inizio alle 21 ed è promosso per iniziativa del comune di Sera dei Conti in unità di intenti con il consorzio turistico Esino Frassassi e con Europa Finanza. La ferita del Bataclan non ancora rimarginata. Ora gli attentati di Bruxelles. La civiltà occidentale si trova a dover fronteggiare quello che alcuni esperti chiamano il nemico invisibile. Un nemico che non ha una divisa e che non colpisce i militari ma inermi vittime civili. Noi abbiamo voluto chiedere a Karim Franceschi, senigallese che ha viaggiato sino a Cobane per combattere contro l'Isis. È giusto uccidere per la democrazia? Io non sono mai andato per fare questo. Sono andato per difendere. Per difendere la mia vita e quella dei miei compagni e quella dei civili che si ritrovavano intrappolati. Però sicuramente dovevo sparare per sopravvivere. Questi dell'Isis avevano percorso decine e decine di chilometri per fare quello che hanno fatto oggi a Bruxelles. In qualche modo anche in Italia, la nostra Costituzione, quando si parla di essere contro la guerra, si dice comunque che per necessità di difesa si può anche combattere. Cambiamo pagina. Dopo il convegno svolto il 27 febbraio scorso, con tema centrale la rigenerazione urbana del centro storico di Ostra nelle ultime settimane, molte manutenzioni hanno interessato la città dentro e fuori le mura. A partire dal recupero delle colonne di sostegno della pubblica illuminazione in prossimità di largo 26 di luglio, fino alle riprese di parte della pavimentazione, con manutenzioni mirate ai punti più critici lungo il corso in alcuni vicoli, che da tempo avevano necessità di ripristino. Lo sforzo è stato quello di concentrare piccoli ma efficaci interventi, a cui seguiranno anche atti e proposte da sottoporre al Consiglio Comunale per abbattere gli oneri nel centro storico. Si terrà venerdì 1 aprile alle 16.30 alla Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia la lezione di recupero del corso di storia tecnica della fotografia, a seguito dell'annullamento dell'appuntamento del 29 gennaio, prevista nel programma della LUAS, la Libera Università degli adulti di Senigallia. La lezione sarà tenuta da Alfonso Napolitano e Patrizia Loconte che tratterranno la catalogazione e il restauro dell'archivio Cingolani. Vogliamo parlare di una giornata che si svolgerà il primo aprile a Senigallia, un convegno dal titolo La mia generazione, energia o dispersione. Ne vogliamo parlare perché insieme anche a Luca Mercalli, che conosciamo come meteorologo, climatologo, conduttore televisivo, si parlerà ovviamente di ambiente e ci interessa a Garbini in particolare l'esempio sulle buone pratiche. Noi aggregando quelli che sono i consumi di varie aziende, perché noi in buona sostanza facciamo acquisti per conto di diverse aziende, siamo riusciti ad acquistare energia verde, quindi proveniente da fonti rinnovabili, certificata allo stesso prezzo dell'energia proveniente da fossili. Energia verde, quindi rinnovabile allo stesso costo dell'energia fossile, che come sappiamo non è rinnovabile e anzi terminerà. Non è una magia, però allora significa che si può fare. Assolutamente, perché se non fosse così la nostra generazione purtroppo è la generazione che non può fare niente. Secondo me si può fare. Se noi tutti pensiamo e vogliamo le stesse cose, possiamo tranquillamente premiare tutte quelle invenzioni, tutta quella innovazione tecnologica che già c'è sul mercato, ma che per problemi esclusivamente economici non vengono distribuiti. Massimo Carlotto, venerdì 1 aprile alle 17.45, sarà da Max Fanelli per sostenere la sua battaglia per una legge sul fine vita. Massimo Carlotto, uno dei maestri del noir mediterraneo, sarà a Senigallia per presentare il suo ultimo romanzo per tutto l'oro del mondo della celebre serie dell'Alligatore. L'iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Senigallia vuole essere una prestigiosa anteprima dell'ormai tradizionale appuntamento estivo con il festival 20.000 righe sotto i mari in giallo. Le condizioni del tempo di venerdì 1 aprile sulle Marche, cielo parzialmente velato in quota con maggiori velature sul settore interno e meridionale, dissolvimenti specie lungo le coste nel corso della giornata, assenti le precipitazioni, i venti deboli meridionali ad orientarsi da sud-est fino a aspirare con moderata intensità, le temperature in ascenza nei valori minimi quindi in graduale calo. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani.